Ah, sono Tony Bueghini, eh? Scusa tanto, se mi permetto, eh? Signor Maestro Stefano Biasetto, guru, barioghi, guy, indico, child, paracadutista, cantante, lirico, buzo di cuore. Ok, hai sei minuti, eh? Ah, gente, a me a mattina metto l'ho cuore, neem, acqua curcuma, e miele, e per 2 ore stomaco vuoto e niente altro. E poi? E poi cosa hai fatto? E poi ti fai il video, tutto è bello, tiene quei cosi, con il boiler che fa rrrrrr, e quando che il boiler fa stock, ti tutto contento, è pronto un caffè, e ti scegli a diretta, a posto, ma che, 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 oh, non so, mi ha rispetto, a 43 ore alla baionetta, eh, rispettosi oggi. E ora, sono sempre mio, Tony Buellin, ho messo un cavalli casco, guarda, sono sempre mio, e ora, ho messo alle corde, ho messo le corde, nel senso pugilistico, vero, quando ho messo le strette, c'è che devi guardare in faccia la realtà. E fa il suo goro, no? E dice, no, ma io, del caffè, l'ho detto solo per vedere se eravate attenti. Attenti chi? Che non ti guarda nessuno, intanto, prima roba, seconda roba. guarda che ne ne so benissimo intanto rispetto ma 43 la bella vita e ne so benissimo che ti dei caffetti che ne bevi anche 10 al giorno guarda che mi so tutto di ti so come il tuo ha il trecco oh 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 oh